Oggi vi porto a fare una bella passeggiata lungo la busta ciclopedonale che da ora arriva a Levanto. Questo percorso è riservato ai pedoni e alle biciclette lungo circa 5,5 km e offre bellissimi scorci sulla costa, mancati in galleria sono molto lunghi. Circa a metà della passeggiata si arriva nel paese di Buonassola che ha una bellissima spiaggia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La passeggiata lungo la busta ciclopedonale continua verso il paese di Levanto. Lungo il cammino si incontrano diverse spiaggette dove è possibile scendere. Le gallerie dell'ex tracciato ferroviario sono ben illuminati ma i punti più belli sono ovviamente quelli panoramici sulla costa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel paese di Levanto finisce la mia passeggiata lungo la ciclopedonale. Seguitemi nelle prossime avventure.